Il mare è la casa degli organismi che lo abitano. Noi siamo ospiti e dobbiamo rispettare i padroni di casa. Tra gli organismi marini esistono delle complesse relazioni ed è importante non turbarle. La medusa, ad esempio, ha un ruolo ecologico molto importante ed è anche il cibo preferito della tartaruga. Non dobbiamo raccoglierla da mare per evitare di lasciare tartarughe senza cibo, ma soprattutto è un reato penale ucciderla, punito dall'articolo 544 che prevede l'arresto ed una multa superiore ai 5.000 euro.